ciao a tutti siamo qui sul mio pc, pc nuovo di becca nello scorso video vi avevo spiegato che sarei passato al pc gaming infatti mi è arrivato il pc ho tardato tipo una settimana per pubblicare questo video perché a parte che io lavoro durante tutto il giorno avevo solo poche ore alla sera per scaricare alcune cose perciò ho fatto tutte le cose con karma allora il gameplay che state vedendo è di planetside 2 il gioco che è free praticamente è gratis è un first person shooter fps classico con una mappa gigantesca in cui si possono collegare tantissime persone allora parlando di pc allora io sto registrando con nvidia shadow play ovviamente la mia scheda grafica mi permette di di avere una qualità grafica molto alta su ultra infatti ho una gigabyte gtx geforce gtx 780 da 3 giga perciò direi che è molto buona mi permette di avere una grafica veramente molto molto dettagliata e molto buona il processore che ho è un i74770k che anch'esso è molto buono che mi sono fatto consigliare dal mio fratello ho ordinato anche la tastiera e il mouse che sono il cooler master il kit devastato che sull'angolo sono ci sono 30 35 euro se non ricordo quelli illuminati di blu direi che sono veramente belli il tastiera il tastiera non è proprio il massimo comunque il mouse invece è veramente bello con l'illuminazione blu anche perché il mio pc c'ha le ventole con i led blu perciò si intona magnificamente tutto quanto che altro dire la cosa bella che di aver preso una scheda grafica invidia è stata la possibilità di scaricare due giochi gratuitamente infatti il primo come vedrete assassin's creed 4 black flag infatti io non l'avrei mai comprato forse me lo sarei scaricato tramite tramite torrent comunque così meno ci posso giocare anche in multiplayer magari farci qualche qualche video adesso vedremo vedremo un po come come si svolgeranno le cose anche qui su assassin's creed posso avere la grafica ultra gioco che mi piace che mi sta piacendo abbastanza l'ho fatto per le prime missioni comunque è tutta un'altra cosa dalle console old gen spero che questo fine settimana non riuscirò a andarmi a prendere o a scaricarmi Battlefield 4 perché vorrei vederlo veramente con con la grafica ultra com'è niente che dire il video si conclude qui ci vediamo alla prossima ciao belli ciao 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 ciao